Noi abbiamo bisogno adesso di ricostituire le scorte, vista anche come sta andando adesso l'ondata epidemica. Abbiamo bisogno soprattutto che i nuovi pazienti guariti si mettano in contatto con noi per venire a donare. L'invito appello è rivolto alle persone che oggi in questa seconda ondata del Covid sono state positive e sono guarite. Le scorte dopo la primavera si sono assottigliate ed oggi con il numero di contagiati, malati, in crescita, rischiano di esaurirsi. Attualmente a disposizione ci sono ancora 120 unità terapeutiche, ma ne servirebbero almeno 400. Servono al più presto donatori. Ogni paziente che viene curato con la terapia del plasma da donatore guarito o iperimmune necessita di almeno 700 ml di sangue, suddiviso in tre aliquide da circa 250 ml per tre giorni. Sangue che viene trattato e reso inattivo in modo da eliminare il rischio di trasmissione di altre malattie, tra i centri abilitati a Vicenza, Verona e Padova. Non tutti però ricordiamo, sebbene positivi al Covid, sono idonei alla donazione. Devono essere perfettamente guariti, devono avere un tampone molecolare che sia negativo da almeno 10 giorni, non devono mai essere stati trasfusi e non devono essere donne che hanno avuto gravidanze. Vanno bene anche i pazienti che non sono stati ricoverati, quindi che sono stati in isolamento domiciliare o che sono stati curati a casa, purché siano stati sintomatici. Almeno il sintomo della febbre associato a magari qualcos'altro tipo difficoltà respiratorie, piuttosto che perdita del gusto, dell'olfatto, piuttosto che dolori muscolari, ecco devono essere sintomatici. Grazie. 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 Grazie.